Quella che affronteremo è un Inter da scudetto? È un Inter sicuramente che rimarrà, che se la giocherà fino alla fine, perché comunque ha grosse qualità, ha trovato un equilibrio di gioco, di conseguenza è un Inter temibile. Ovviamente noi andiamo là non per farle comparse, ma per giocarci la partita. Inter temibile, ma cosa deve temere quest'Inter del nostro Toro? Che noi con la vittoria di domenica comunque abbiamo ritrovato un po' di serenità, sicuramente è un Toro che deve migliorare, deve crescere ancora, però abbiamo grosse qualità in ogni reparto, tanti giocatori che possano risolvere la partita, di conseguenza penso che stiamo bene, la settimana i ragazzi hanno lavorato bene, il mister è contento, quindi penso che ci siano i presupposti per dire la nostra. Il risultato spesso è anche conseguenza di episodi, quindi non possiamo saperlo, però io sono convinto che la prestazione ci sarà. Chiudiamo con una sfumatura retro, rincontrerai tanti amici, ma su tutti anche Daniele Padelli. Sono contento di rivederlo, lui comunque abbiamo giocato insieme, l'anno scorso io ho intrapreso un altro tipo di ruolo, di carriera, lui c'era ancora, però Daniele è un ragazzo eccezionale, un ottimo portiere, sono contento che ha avuto l'occasione di confrontarsi con altre squadre, con un ambiente come l'Inter, gli faccio l'in bocca al lupo, però poi domenica lo saluterò con affetto, sperando di vederlo triste a fine della partita.